E' scivolato sulla strada sterrata che sale al monte il 77enne di Padova, che domenica stava percorrendo insieme alla moglie un sentiero sul monte grande nel comune di Teolo. Dolorante a una spalla, incapace di muoversi, ha chiesto alla moglie di chiamare i soccorsi. Lungo la strada è stato raggiunto da otto soccorritori, tra i quali due infermieri che lo hanno assistito e poi caricato su una barella trasportandolo per circa 600 metri fino all'ambulanza. All'operazione hanno partecipato gli uomini del SUEM e del soccorso alpino di Padova.